Geppi, Geppi Cucciari, ci sei? Ciao Enrico, ciao direttore Ciao Un saluto, un saluto a te Un saluto a te da me simpaticamente sola a Milano Da qui dagli studi di G Election Day Complimenti, complimenti per il nuovo studio Tutto azzurro, puffo Vedo che la sete ha investito moltissimo su questi speciali Poi ti vedo pimpantissimo, pronto così a nove ore di diretta Ma io ti capisco del resto cosa sono nove ore di diretta Quando potrai dare l'esito del voto della provincia di La Spezia Di Brognaturo in provincia di Reggio Calabria Di Porcari in provincia di Lucca in anteprima Allora complimenti, allora subito una cosa Enrico non possiamo continuare a vederci così Io e te entriamo in contatto solo per gli speciali elettorali Guarda il mio stato sentimentale su Facebook è In attesa che Mentana la chiami per fare uno speciale E soprattutto non posso vedere solo una volta all'anno Quel meraviglioso parterre di intellettuali che siedono insieme a te nel tuo prestigioso studio Lasciami quindi salutare Marcello Sorgi della Stampa Marcello so che a Palermo girano schede già votate Dobbiamo indignarci oppure applaudire la Sicilia che funziona Tutte le volte Saluto anche Maurizio Belpietro So che ha fatto un po' tardi, non gli partiva la macchina del fango E so anche che c'è Maria Teresa Melli Io non sento, sappiate, lo dico ai miei ospiti Non vale Enrico adesso ti sento Lasciami salutare anche Maria Teresa Melli del Corriere Una giornalista molto molto apprezzata Un volto noto, così noto che è pronta per andare ospite da Gadlerner all'infedele Tra l'onorevole Pranghielli, ciccio scuotimuro del movimento contro la tassazione dei passi carrabili E il professor Daddato, ordinario di fenomenologia semantica come se fosse Antani all'università di Fuccecchio Allora Gad, tra l'altro tu sei qua a Milano Ma stasera mi fai l'infedele Non è che dopo vai anche da Piroso al posto di Panatta? Cosa è che ti pagano a cotti ma la sente Allora, tra l'altro so che stasera avresti voluto avere ospite Caro Enrico, Carla Bruni, forse con lei che ha deciso le elezioni francesi Allora tu lo sai, Sarkozy stava rimontando Hollande era un soffio Poi Carla ha deciso di tenere un concerto per sostenere il marito Vediamolo E si sa del resto la musica a volte unisce A volte separa Però non c'è solo il voto in Francia Come sappiamo si è votato anche in Grecia Lo sappiamo preoccupa l'avanzata del partito neonazista Che ha sfiorato l'8% dei voti E c'è molta preoccupazione ad Atene Ci sono alcuni segnali poco piacevoli Possiamo vedere la Venere di Milo in un'immagine di stamattina C'è tensione, c'è tensione nella terra del sole Tra l'altro tutti si chiedono a proposito ancora della Francia Come avrà fatto Hollande a vincere Cioè qual è stato il suo segreto Come è riuscito a riportare alla sinistra Al potere in Francia dopo tanti anni Enrico noi abbiamo un'esclusiva Abbiamo una foto Guardatelo, questo è Hollande Che tiene in mano un foglietto Abbiamo un primo piano sul foglio che aveva in mano Ecco, ha preso il programma del PD E ha fatto l'esatto contrario Bravo François Allora intanto lo sai Arrivano i primi dati Tosi si sa è in largo vantaggio Un po' una flessione generale della Lega Non Tosi Forse dopo le vicende albanesi Non ha pagato lo slogan Padano La Lega ce l'ha a Durazzo Comunque Verona è pronta Pronta a festeggiare In questo momento si stanno predisponendo Per invadere la Polonia E a Palermo invece c'è un dato statistico Da sottolineare Ci sono più candidati del centro-sinistra Che elettori del centro-sinistra Però in attesa di capire Chi ha vinto e chi ha perso Enrico lo sai Purtroppo il grande vincitore è la stensione C'è un calo generale dell'affluenza Percepibile soprattutto in Lombardia Qua gli assessori sono quasi tutti latitanti Oppure in crociera con formigoni Ormai qui il voto in Italia È un lavoro che gli italiani Non vogliono fare più Allora noi ci siamo chiesti Come fare a incentivare il voto Perché è importante Se l'elettore venisse accolto In modo più amichevole Allora noi a GD abbiamo una rubrica Che va per strada Propone alla gente cose false Tipo studio aperto Però loro a differenza di studio aperto Danno risposte vere Si chiama Come lei saprà Prego Come lei saprà per arginare L'assenzione elettorale Dalle prossime elezioni Chi andrà a votare Troverà in cabina Un servizio prima classe Una flutta di champagne Un vassoio di salatini Un cioccolatino alla menta Lei è d'accordo? Penso che c'è un buon metodo Per andare a far votare la gente Questo sicuramente Ma perché ci hanno preso Io vado a un party Mica vado a un happy hour Vado a votare Per cercare di migliorare Le scorte del nostro paese Non è detto che funzioni Perché magari uno va lì Mangia Beve lo champagne Fa un segno volgare Sulla scheda E se ne torna a casa Il cioccolatino alla menta Non mi piace Non li voglio alle elezioni Cosa mi interessa Ma il fruit di champagne Lo pago io Io sono cresciuta con la cultura Che lo Stato siamo noi Non mi faccio comprare da niente Né dal vino Né dallo champagne Mangia lo salmone Ovviamente tutta l'operazione Costerà 20 milioni di euro A carico dei contribuenti Perca miseria 20 milioni Qualcuno li deve tirar fuori Se lo vogliono fare Ben venga Alla fine lo champagne costa Benissimo Un popolo addolorato Ma non in vendita Caro Enrico Allora io ti ringrazio Un saluto ai tuoi ospiti E ricordati però Che le elezioni Sono come la dieta Per una donna Costano troppo Ti mettono a disagio E alla fine Ci metti una croce sopra A dopo Enrico Noi siamo qua A dopo Quando vuoi chiedi la linea Un saluto ai tuoi